eccoci ancora una volta oggi sul canale youtube scatta col trend in borsa vi invito a vedere l'analisi di oggi su un video e anche l'offerta per il trading in intraday con i future i due video pubblicati oggi adesso andiamo a fare un focus veloce su un titolo quotato a piazza affari che aveva avuto un exploit quando è andato in collocamento è un titolo sicuramente molto molto interessante sia per i buoni dati fondamentali sia per l'analisi grafica ma soprattutto come dice il titolo della nostra copertina in virtù di tassi in discesa poiché sia una discesa più o meno lenta questo lo stiamo verificando viste le titubanze delle banche centrali e della bce in primis ma sembrerebbe che salvo clamorosi rovesciamenti di fronte come si dice in gergo calcistico i tassi comunque più o meno velocemente dovrebbero aver ormai iniziato una loro discesa e chiaramente tassi in discesa cosa significa significa in primis più facilità per l'accesso ai mutui da parte delle famiglie molto semplicemente perché quando vai a fare un conteggio un preventivo e ti trovi con tassi alti delle rate di mutuo insostenibili magari rimandi e ci rinunci e quindi ecco che una fase di tassi in discesa potrebbe in questo caso riavvicinare o avvicinare maggiormente le famiglie ad andare ad accendere un mutuo peraltro in una situazione come quella italiana dove il mutuo è all'ordine del giorno anzi magari degli anni vista spessa spesso la durata molto estesa che soprattutto giovani coppie scelgono per avere un peso minore durante durante la vita del mutuo e questo chiaramente va a favorire in maniera evidente chi eroga il mutuo e quindi andiamo proprio a vedere subito mutui online è il titolo che potrebbe andare a beneficiare della situazione di una possibile appunto discesa dei mutui il titolo aveva avuto i suoi massimi tre anni fa esattamente a 52 euro e vediamo come adesso si muova intorno ai 32 euro quindi una quota una quotazione sicuramente interessante e lontana dai massimi andiamo a vedere come comunque ci sia un trend primario rialzista ancora solidamente solidamente in essere come il titolo dieci anni fa veleggiasse intorno ai 4 euro quindi un titolo sicuramente interessante un trend di fondo rialzista e adesso abbiamo avuto una figura abbastanza interessante di analisi tecnica perché si è andati a formare il supporto in area 33 euro e 60 33 euro e 80 supporto che è stato pesantemente rotto al ribasso e in maniera potrebbe dire quasi millimetrica retestato come resistenza ecco in questi casi quello che accade è che si va poi a sviluppare la gamba ribassista per terminare tutto l'impianto grafico attualmente in potremmo potremmo anche andare a ipotizzare la presenza di un triangolo ribassista che sarebbe perfettamente validato dalla regola di analisi tecnica che vuole che un triangolo per essere correttamente per avere un corretto impianto grafico debba essere rotto al ribasso in questo caso è che un triangolo ribassista non prima della metà della sua base ma neanche nell'ultimo quarto quindi in questa fase in cui è avvenuta la rottura al ribasso è esattamente congrua collimante con quelle che sono le regole di analisi tecniche in questo caso si va a ipotizzare un target del ribasso prendendo il punto più alto il punto più basso dei test del prezzo all'interno del rettangolo e si andrebbe ad ottenere un livello intorno ai 27 euro e 70 circa 27 70 diventa secondo me sicuramente un interessante livello di ingresso anche perché a sua volta è un'area di swing molto molto evidente che già in precedenza aveva fornito il supporto dopo la rottura dei 27 e 60 appunto e poi come area di consolidamento per la successiva ripartenza ecco che in questo caso questo livello lo andiamo sicuramente ad attenzionare prendiamo anche spunto da questo minimo per andare a tracciare una trend line rialzista dinamica supportiva e vediamo che maniera ancora precisa ci va a fornire conferma di quest'area come supporto quindi noi qui avremmo la chiusura del pattern del triangolo ribassista con l'arrivo ai 27 70 su una doppia area supportiva sia questa statica e questa e questa dinamica ecco che quindi andiamo sicuramente a mettere un alert sotto ai 28 euro per andare a a ipotizzare un entry buy su questo titolo entry buy che appunto stante la situazione dei tassi potrebbe perché no anche essere un buy di medio periodo per andare prima a prendere di nuovo 40 euro e poi sull'eventuale rottura insomma c'è spazio per aggredire senza alcuna fretta i massimi che sono stati battuti dal titolo andiamo a vedere il forecaster trovate come sempre in descrizione il link per abbonarvi gruppo mutuo online attraverso le sue controllate fornisce servizi di intermediazione creditizia e assicurativa al dettaglio servizi di outsourcing del credito in italia opera attraverso la divisione broking e business process outsourcing di più la divisione broking distribuisce mutui ipotecari attraverso una rete di agenti attraverso il sito mutui online punto e t prestiti a consumo tramite il sito prestiti online e rc auto quindi il settore è ovviamente chiaro sede e in quel di milano andiamo a vedere i dati fondamentali abbiamo una creazione di valore per gli azionisti abbiamo un pie e un eps che ci evidenziano non dati clamorosamente buoni perché un eps non altissimo mentre il pie è forse già troppo alto ma chiaramente ma chiaramente sul ritraccio in area 27 70 e stante la situazione appunto dei tassi ci andiamo ad aspettare che il mercato possa andare a ricordarsi tra virgolette del titolo i tre parametri che siamo soliti utilizzare ci evidenziano una chiarissima sottovalutazione rispetto al possibile fair value come tutti i titoli finanziari questo ormai ce lo stiamo imparando non ci preoccupa se andiamo a prendere l'indebitamento di istituti finanziari di credito banca eccetera eccetera vediamo tutti indebitamento indebitamenti ampiamente superiori al patrimonio beh in questo caso l'indebitamento è comunque inferiore al patrimonio profit margin errore sono assolutamente discreti nella norma quindi secondo me è un titolo appunto sottovalutato lontano dai massimi e con una congiuntura attuale economica che potrebbe assolutamente della quale potrebbe assolutamente beneficiare 6 su 6 su 9 di piotrowski quindi è considerato un titolo forte ed è considerata una società una compagnia resiliente eccoci qua lo andiamo proprio a leggere rendimento per gli azionisti positivo e superiore al rendimento dei dividendi oltre a dati finanziari ponderati in aumento vediamo perché il dividendo è molto basso è un titolo da comprare per il dividendo però il fatto che il rendimento per gli azionisti sia superiore vuol dire che oltre al dividendo c'è altro sia in questo 353 è compreso il dividendo ma c'è dell'altro infatti il rendimento degli azionisti è una misura che combine il rendimento dei dividendi riacquisti di azioni e rimborso del debito per mostrare rendimenti totali che una società restituisce ai suoi azionisti è uno sguardo più completo su come una società usa il suo capitale per avvantaggiare gli investitori oltre al rendimento del dividendo ecco quindi un titolo non clamoroso o non vorrei neanche farlo passare come un titolo che possa chissà quali rendimenti offrire ma sicuramente un titolo che potrebbe essere questo il momento giusto per metterlo in portafoglio stante i buoni dati stante il fatto che è lontanissimo dai dai suoi massimi e quindi secondo me è assolutamente interessante se andiamo a vedere anche white off ok si mostra chiaramente la rottura al rialzo della linea dello zero quindi una possibile inversione di trend ovviamente attendiamo un ritraccio in area 27 70 27 80 come abbiamo detto su questa doppia area supportiva per rientrare questo è un titolo che quando era andato in collocamento e quando insomma aveva cominciato a correre era un titolo del quale si parlava molto spesso poi come spesso accade ci sono le mode anche in borsa è un titolo del quale non si sente più più parlare ma in verità in verità sicuramente un titolo un titolo interessante quindi andiamo ad attenderlo in area 27 eccoci qua su quest'area supportiva 27 70 27 80 dove valuteremo il buy un saluto a tutti potete abbonarvi con il link in descrizione con la scontistica al forecaster a domani ciao e grazie